Ormai, per venire qui a portare andiamo come le lumache. Che ho delle palle e che non vuole di fuori. Ma non è niente, però c'è l'opera, ma è la prossima, va a primarciare. Vai, porta! Vai, porta! Voi, guarda! E' un'lietta, a sticcolizzare. E' un'lietta, che è un'lietta! Ok! Grazie a tutti.